Questi sono i misteri del cinema italiano, modellati sui misteri del rosario, misteri gaudiosi, misteri dolorosi, misteri gloriosi. Cominciamo con i gaudiosi. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'avvento di un cinema nuovo, un cinema finalmente senza peccato, colto, civile, poetico, intelligente, divertente ed accessibile a tutti. Nel secondo mistero gaudioso si contempla una bella visita ai bilanci dei provider internet ed operatori telefonici che saccheggiano impunemente il cinema senza spendere un centesimo. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di una nuova legge per il cinema, una legge di sistema, comprensiva di una tassa di scopo che restituisca legalità al nostro martoriato settore, inquinato da un meccanismo di ristorni governativi che vanno a premiare i film che più hanno incassato e da un cosiddetto reference system che con il suo punteggio automatico premia le posizioni forti e penalizza le produzioni indipendenti. Nel quarto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di nuove risorse se per il cinema e per la cultura in generale, che sarebbe ben poco misterioso e gaudioso ascoltare ancora slogan rozzi e blasfemi come con la cultura non si mangia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla l'incoronazione nella gloria degli angeli custodi dell'Anac, a cominciare da Zavattini, Rossellini, Fellini, Pasolini, Visconti che da ben oltre mezzo secolo si batte a sostegno delle magnifiche sorti del cinema italiano. Ecco i cinque misteri dolorosi. Nel primo mistero doloroso si contempla l'orazione anticinema d'autore che viene recitata ai pubblici più diversi e con i più vari pretesti, basata su falsità spesso, incompetenza, viscerali rancori, nel tentativo di far tacere voci scomode e dissidenti fuori dal coro. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione delle piccole sale, delle giovani produzioni, delle coraggiose distribuzioni indipendenti, degli esercenti che rischiano di tutte le minoranze oppresse dallo strapotere dei soliti potenti che conosciamo. Nel terzo mistero si contempla l'incoronazione delle spine conficcate nella fronte e nel cuore della libera creatività ad opera dei cinepanettonari, dei funzionari, dei ficcionari, dei pennivendoli, degli speculatori che hanno trasformato il mondo del cinema in una casta egemonica e inaccessibile di pochi privilegiati. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita al calvario inflitta dalle commissioni governative che dall'alto dei loro scranni scelgono i film da sostenere con il finanziamento pubblico e quelli da escludere. Esse, queste commissioni, vengono nominate dai vertici del Ministero dei Beni Culturali con criteri di appartenenza politica e composte da soggetti a volte incompetenti privi di attitudini specifiche per i quali il mondo del cinema è un pianeta misterioso e sconosciuto ed oscuro del quale è meglio diffidare. Nel quinto ministero doloroso si contempla... non era un lapsus, volevamo proprio dire ministero che è un ministero doloroso forse almeno per noi che in qualche modo noi siamo subordinati ma forse anche per loro i ministri, i quali quasi sempre vivono l'assegnazione di questo di Castero come una sorta di crocefissione, di portafogli punitivo, perennemente squattrinato oppure come un sortineggio, una magia che, come il ministro Varca, il portone del collegio romano lo fa sparire, lo rende invisibile, almeno a noi dell'ANAC che in più di un anno siamo riusciti a vederlo apparire a toccarlo con mano e poi a scomparire subito una sola volta. Ed ecco, infine i cinque misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso si contempla la possibile resurrezione definitiva dei fasti passati del nostro cinema di cui già si registrano precisi segnali. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione verso le cime degli esordi più promettenti di tanti giovani che aspirano a tentare la scalata al cielo delle arti cinematografiche. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa in forma di fiammella di qualche guizzo di espri francese nelle menti che dovranno progettare la nuova legge del cinema italiano. Vedi modelli come il Centro Nazionale Francese di Cinema e altri provvedimenti. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di responsabilità per i disastri provocati da chi negli ultimi decenni ha pilotato i destini del nostro cinema. Nel quinto mistero si contempla la recentissima incoronazione, come altre in passato, che il cinema italiano ha ricevuto nella gloria dei festival internazionali e delle sale di tanti paesi, grazie al Magistero di due giovanissimi ottantenni soci dell'ANAC. Grazie. Grazie.